La richiesta di un'Europa più orientata alle politiche sociali cresce in tutta l'Unione Europea, con particolare attenzione all'Europa meridionale. Secondo un sondaggio esclusivo Ipsos, commissionato da Euronews, il primo sondaggio di questo tipo condotto in 18 paesi europei, i portoghesi sono i più preoccupati dall'aumento del costo della vita. Tuttavia, anche il 68% degli europei vuole che l'Unione affronti l'aumento dei prezzi, mentre solo per il 7% dei potenziali elettori l'inflazione non è affatto una priorità. I finlandesi sono i meno preoccupati dal costo della vita. Segno dei tempi di crisi, i cittadini dell'Unione percepiscono un impoverimento generale. Il 64% dei cittadini chiede di ridurre le disuguaglianze sociali, solo l'8% è contrario. I portoghesi sono di nuovo in testa, mentre i polacchi sono i meno preoccupati. La terza priorità degli elettori è la crescita economica. Il 62% degli intervistati chiede ai deputati dell'Unione misure efficaci per stimolare la crescita economica, mentre la lotta alla disoccupazione viene subito dopo la lotta all'immigrazione clandestina. Gli olandesi sono i meno propensi a qualsiasi forma di intervento dell'Unione per rilanciare l'economia. Le questioni sociali non sono prioritarie solo per gli elettori orientati a sinistra e al centro-sinistra. I moderati, i conservatori, i centristi, i liberali e gli elettori di destra sembrano chiedere un maggiore intervento legislativo dell'Unione in campo sociale ed economico rispetto alle elezioni precedenti. Una maggioranza abbastanza consistente di elettori di destra del gruppo dei conservatori e riformisti europei e dell'estrema destra del gruppo identità e democrazia chiede misure contro l'inflazione. Mentre per quanto riguarda le disuguaglianze e la protezione sociale, gli elettori di sinistra e di centro-sinistra sono i più esigenti. La maggioranza degli elettori della grande coalizione chiede una maggiore assertività dei deputati dell'Unione quando si tratta di adottare misure che stimolino la crescita economica. Le questioni sociali ed economiche sono preoccupazioni tangibili per i partiti transpolitici. I leader dell'Unione europea dei prossimi cinque anni devono trovare una soluzione per far fronte alle richieste dei cittadini che potrebbero richiedere una maggiore spesa pubblica e le regole e le politiche dell'Unione degli ultimi anni che hanno rafforzato la disciplina fiscale.